Capo cannoniere del campionato, che bella parola! Sì, vabbè, sicuramente è una cosa in più per me, dopo una stagione bellissima per tutti noi, quindi è la cileggina sulla torta. 23 gol sono veramente tanti. Sì, vabbè, per un attaccante penso che fare gol è la cosa più bella in assoluto. Ci sono riusciti, ne ho fatti tanti, quindi sono strafelice. La Padula si è fermato a 21, ha sbagliato un calcio di rigore. Una curiosità. Se sullo 0-0 ci fosse stato un rigore per il Teramo, chi l'avrebbe tirato? No, vabbè, ma penso che non ci sono problemi. Sappiamo che abbiamo dei compiti, io sono il rigorista. Se in caso lo subisce lui, lo tira lui, però il rigorista sono io, poi non ci sono problemi. Penso che ci siamo rispettati tutto l'anno e penso che non c'erano problemi anche alla fine. Ecco, tutta Teramo adesso si chiede cosa farà il Pescara di Donnarumma. No, sinceramente non lo so nemmeno io. Ora ci chiediamo questa giornata bellissima, storica e poi quando inizierà il calciomercato vedremo, parleremo col Pescara e vedremo quello che succederà. La tua volontà? No, io sono stato bene qui. È stato un anno fantastico, quindi se ci dovessero essere le possibilità io sarei felice di rimanere. C'hai una dedica particolare per questa vittoria nella classifica dei marcatori? No, vabbè, sicuramente la mia gioia va a tutta mia moglie e mio figlio che passano tante gioie e dolori con me, quindi sicuramente va a loro e poi ai miei genitori che da una vita hanno fatto sacrifici per me. Serie B, per te non è una lettera nuova, però è un ritorno, è un ritorno importante perché avviene dalla porta principale. Sì, no, come hai detto non è la prima volta, però penso che ogni volta che riesci a vincere un campionato e ti è andata in Serie B penso che è un'emozione indescrivibile, quindi ora ritorno e spero di essere protagonista come sono stato quest'anno. Grazie. Grazie.